La Calabria, terra antica di meraviglie e bellezza, tra miti e leggende, storie e tradizioni, questa regione incanta con i paesaggi montani e le acque limpide del mare, il vero oro, i prodotti, i profumi del territorio. Sim Carabinieri, il primo sindacato nella storia delle forze armate, è presente in diverse città. Oggi incontriamo il segretario generale regionale Giuseppe Grillo per scoprire i vantaggi che può dare l'iscrizione al Sim Carabinieri. Giuseppe, il vostro lavoro sul territorio è molto importante e supporta tanti carabinieri in Calabria. Sì, noi in Calabria abbiamo avuto la possibilità di strutturare tutte e cinque le province, tutte le segreterie e contiamo più di 70 dirigenti che possono essere utili al collega per fornire informazioni ma anche sostegno e aiuto nelle circostanze in cui si trovano. Quanti iscritti avete in Calabria? Guarda, al momento contiamo 1.500 iscritti che rappresenta più del 25% degli operatori che svolgono servizio nella nostra terra. Il nostro punto di forza è la formazione. Abbiamo svolto diversi corsi dal codice rosso o sul sequestro e ispezioni degli smartphone, molto apprezzati ma che comunque danno un servizio migliore alla nostra popolazione. Come si fa ad iscriversi al vostro sindacato? È molto semplice, basta andare sul sito Sim Carabinieri e nella mappa virtuale potete trovare tutti i nostri referenti regionali e provinciali. La sede centrale di Sim Carabinieri Sindacato Italiano Militari Carabinieri è a Roma, con un team operativo sempre presente per tutte le regioni e i suoi iscritti. Giuseppe, quali sono gli obiettivi per la Calabria? In accordo con il nostro segretario nazionale Antonio Serpi vogliamo rendere più fruibili i nostri servizi. Abbiamo le eccellenze in diversi dipartimenti e quindi vogliamo formare i nostri segretari regionali a dare risposte almeno nell'immediato e nelle soluzioni più, meno complesse. Quindi non li lascerete? Mai più soli. Grazie.